Assaltare un forte da solo. E ho dato a Foster dell'idiota. Assaltare un forte da solo. 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 Sì. 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 c'è il mondo? Oh, 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 oh. Sì, sì. Sì a 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 che c'è ancora sei sicuro che non vuoi spararmi coraggio andiamocene questo posto rischia di crollare non possiamo andarcene non possiamo seminare i nemici tutti i feriti bene vai tu io ti copro allora ma bishop ci sono ancora farò finta di aver catturato il forte per distrarli dopo aver oltrepassato le linee alleate lancia un bengala allora mi ne andrò disubbidiamo agli ordini ora immagino l'abbiate fatto anche voi vieni qui ecco ora hai proprio l'aspetto di un australiano è vero coraggio ragazzi andiamo andiamo sei la guerra e 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 a 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